Amici di Sommi Vini, Tastuma oggi! Ben ritrovati dopo un po' di tempo, ho voluto ricominciare con i video parlandovi di un'uva, di un vino particolare, l'uva in questione e il grignolino. Particolare perché, diciamo, prima di tutto è un po' fuori da quello che sono i nomi più noti dell'enologia piemontese. Oltre al grignolino c'è Freysa e ci sono altri vitigni molto apprezzabili in Piemonte, a testimonianza del fatto che il panorama enologico italiano è veramente amplissimo. Il grignolino fa la sua buona parte a cominciare da piccole particolarità come il numero di vinaccioli, che sono tre in ogni acino, a differenza degli acini e delle altre varietà che, nella maggior parte dei casi, sono due. Dal fatto che esistesse anche una versione bianca, questa però inoltre po', e il fatto che predilige suori sassosi e sabbiosi per dare il meglio di sé. Poi le altre particolarità del grignolino sono il colore, che potete vedere benissimo. È trasparente, non è carico, ma non ha bisogno di essere così carico. I lustri enologi francesi, vedendolo, si sono proprio ricordati del fatto che anche il pino nero fatto da loro ha queste caratteristiche, testimonianza del fatto che non c'è bisogno di grandi colori e di grandissima struttura a livello di polifenoli per avere un grande vino. Qui, infatti, troviamo tantissima bella freschezza, troviamo dei profumi diversi, chiaramente rispetto a nebbioli, barbere e dolcetti, e proprio questo ne costituisce la parte più importante. Quest'uva, nella versione di Luigi Spertino, mi ha particolarmente, diciamolo così, emozionato, perché io mi emoziono quando trovo delle uve, dei vini che esprimono, ti parlano proprio del territorio, ti dicono sinceramente e francamente la loro provenienza. E qui a me si è aperto un po' il cuore, perché riconoscere proprio i caratteri quasi dei piemontesi in un bicchiere è stato veramente una cosa bella, è quello che io cerco sempre o quasi sempre, cerco sempre in ogni vino, riconoscere il territorio, le persone che lo fanno. Grignolino d'Asti, Luigi Spertino, 2019, ecco qua la bottiglia. Allora, per la degustazione, io sinceramente ho preferito un bicchiere di volume un po' più contenuto, proprio perché con i profumi non abbiamo questa esuberanza. Quindi io ho preferito un bicchiere che si avvicinasse più a un bicchiere da bianchi. Allora, a partire dal colore che vedete è trasparente, con dei riflessi di violaccio non c'è niente, siamo quasi al ramato, quindi rosso rubino con dei riflessi ramati. È limpido, brillante, non a caso l'acidità qui è un po' la fada padrone. E non a caso ci sono dei ricordi proprio citrici, addirittura di agrume. Sicuramente speziato, sicuramente floreale, con anche degli accenni di erbaceo, di geranio. Sicuramente la cosa che è stata fatta benissimo dal produttore, da Spertino, è stata dominare quella che è un po' la tendenza a manifestare dei tannini acerbi da parte del grignolino. Infatti qui i tannini ci sono, sono leggermente verdi, ma assolutamente non disturbano. Struttura, sapedità, però senza eccederne l'alcol. L'alcol qui è bassissimo, parliamo di un vino che ha 12 gradi, ma il palato si apre abbastanza, si riempie con tutto quello che non è alcol, con tutto quello che è vino. Ecco, bene, io un vino del genere lo definisco un vino da bere proprio, nel senso da sete. soddisfa proprio il momento in cui uno, invece che bersi un bicchiere e degustarselo, magari in un po' di minuti, insomma, nel momento della sete lo beve, lo assaggia, lo apprezza in tutte le sue sfumature, ma anche abbastanza in fretta, insomma. Non si fa fatica a finire con qualche amico una bottiglietta del genere. Un vino da, diciamo, merende, da pecnizzo. Un vino che fa della sua semplicità, della sua rappresentatività del territorio, forse la sua espressione migliore. Ciao a tutti, se vi è piaciuto mettete un like, se vi è piaciuto il video, se vi iscrivete al canale, tanto molto meglio. E guardate nel link che ci sarà presto una novità, il blog, dove tutte queste belle cose magari saranno anche scritte. Ciao!